Ora gli spettacoli avvio stellare per la rassegna Udine Rock Nights Palamostre tutto esaurito ieri sera per il concerto con il batterista Chris Slade e il meglio del repertorio degli ACDC Il leggendario batterista britannico è stato accompagnato da una band tutta friulana composta da Michele Pirona, Max Zanuttini, Emiliano Rossi e Alex Monti alla voce In due ore intense e spettacolari sono stati riproposti tutti i grandi successi che hanno fatto la fortuna di una delle più importanti rock band di tutti i tempi da Hell's Bells a Shoot to Thrill, da TNT a Back in Black passando per Are You Ready, Money Talks e la super hit Thunderstruck I prossimi appuntamenti delle Udine Rock Nights sono fissati per il 31 ottobre con un altro grande batterista Simon Phillips dei Toto e il primo dicembre con i mitici Skid Row e il primo dicembre con i mitici Skid Row